L'Italia, dobbiamo sapere, è uno dei paesi in cui si lavora di più. Pensate, un lavoratore italiano di media lavora all'anno 358 ore in più di un lavoratore tedesco e 196 ore in più di un lavoratore francese. Eppure uno potrebbe dire guadagniamo di più, no, guadagniamo di meno e anzi c'è una continua perdita di potere salariale comparativamente a questi altri paesi. Ecco allora, la nostra proposta è di ridurre in via sperimentale l'orario di lavoro da 40 a 32 ore e questa riduzione ovviamente va affidata e realizzata tramite la contrattazione collettiva e va anche supportata da uno sgravio contributivo. Noi la proponiamo a livello sperimentale, parliamo di una riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione e i vantaggi sono notevoli. Sono notevoli che ci attendiamo sempre quanto riguarda le lavoratrici e i lavoratori i quali potranno migliorare la loro qualità di vita, dedicare più tempo alla famiglia, agli affetti, alla vita sociale e culturale, ma anche per le imprese. Le imprese lo stiamo già vedendo in tutti i paesi che stanno sperimentando questa nuova formula. Pensate, 18 paesi del mondo in questo momento stanno sperimentando la settimana corta. In Giappone Microsoft ha realizzato la settimana corta e ha aumentato la produttività del 40%, quindi aumenta la soddisfazione dei dipendenti e quindi aumenta anche il livello di produttività della stessa azienda. Ma ci aspettiamo anche vantaggi rispetto all'impatto ambientale. Spero che su questo ovviamente con le altre forze politiche ci sarà un dialogo sereno e potremo quindi realizzare questa sperimentazione anche in Italia.